Soprattutto negli ultimi dieci anni, siamo da Anime Nere, Il Traditore, Aria Ferma, La Terra dei Figli, diciamo che una femmina, Leonora Dio, gli ultimi due siamo stati a Berlino. E quindi a volte mi dico ma sto lavorando bene, sto facendo dei personaggi a me necessari, che raccontano delle cose, raccontano qualcosa. E quindi a volte poi la cosa più bella è quando poi il pubblico, guardi mi sono emozionato moltissimo, in quella scena è stato così, mi ha dato questo, quella è la recensione più bella che un attore si può aspettare. Pensando ad Alberto Sordi, ma basta il nome, Alberto Sordi, mi sento quasi in difetto di pensare di dire qualcosa su una personalità così forte, e un attore così poliedrico, perché non era soltanto quello che faceva ridere. Sordi è stato anche dei personaggi di una drammaticità potentissima, quindi sono molto soddisfatto e molto contento di ricevere questo premio. Grazie. Grazie. Grazie.